Amici Trebi Meteo, benvenuti a questo aggiornamento delle nostre previsioni per la giornata di domenica che vedrà un flusso di correnti umide proveniente dal nord atlantico e diretto verso l'Europa orientale lambire anche il nord Italia e in particolare le regioni di nord est, mentre nel resto del paese situazioni sempre estive con temperature alte. Controlliamo la nuvolosità prevista sull'Italia e in effetti vediamo degli annuvolamenti scivolare sulle regioni nord orientali sarà una giornata a tratti un po' nuvolosetta anche tra la Liguria e l'Alta Toscana però in realtà come precipitazioni lo vediamo adesso, solo qualche fenomeno sarà confinato sulle regioni di nord est con appunto questi acquazzoni temporali che interessano il Trentino Alto Adige, il Friuli Venezia Giulia, il Veneto ma nel resto del paese ben poco da segnalare, qualche locale piovasco forse anche sull'Appennino settentrionale quindi in definitiva giornata un po' variabile e instabile sul Triveneto con l'arrivo di queste acquazzoni temporali anche su tutta la fascia alpina e prealpina si potrà sviluppare qualche temporale di calore ma per il resto gran sole, un po' di nuvole in Liguria e soprattutto ancora gran caldo temperature in tutta Italia elevate, in molte zone continuiamo a superare 35 gradi all'ombra con questo è tutto per i dettagli sulle vostre località, scaricate l'app gratuita di Trebi Meteo